e tu fai fotografia gioielli pittura l'ho fatta in passato però già la storia sarebbe questo partiamo da lì io sono venuta in toscana nel 96 dopo lunga esperienza come ha diretto nelle varie agenzia pubblica a roma chiamata da un'azienda molto grande vitiliana che non esiste più per fare per loro il marketing le etichette tutto quello che serve eccetera eccetera e poi ho fatto le varie esperienze lavorato in diversi settori poi a un certo punto è nata questa passione avendo l'open space più grande che si possa avere il chianti e ha cominciato a fare queste fotografie diverse da quelle che normalmente si fanno infatti spesso mentieri mi chiedono ma tu fai foto del chianti no non faccio foto del chianti faccio foto nel chianti che ben diversa infatti un'amica mia ha scritto bellissima infatti viene presentato nel libro non le chiedete a trudi che macchina usa che scarpe indossa mentre fa le foto diciamo questo un po una storia breve di come ci sono arrivata ma che cosa è che ti ispira di questo territorio che cosa è che ti porta o ti ha portato a rimanere qui e a usare anche questo paesaggio questi scenari per il tuo lavoro ma sicuramente il fatto che ho vissuto più di 17 anni a roma ho avuto una vita diciamo molto intensa con tutto lavoro come dipendente delle grandi agenzie di pubblicità eccetera eccetera che mi hanno dato eccoci che mi hanno dato questi queste basi diciamo allora quando c'è perché si dice tu sei nato diretta cos'è nato diretta in sintesi è un creativo o tu ci nasci non lo puoi imparare è una cosa che tu hai dentro allora poi tu fai le varie trasformazioni fai le vari consigli compromessi lavorativi nascono due figlie c'è un po di tutto no poi invece stando in quella casa sua a duzzano ogni tanto uscivo fuori e ho cominciato a fare dei scatti fotografici come li vedevo io quindi è stata una cosa graduale diciamo fatto di voler fare questo di professione di lavoro non si può neanche dire di volerlo fare è nato è invenuto naturale è invenuto naturale è la cosa più bella in questi casi perché tu praticamente vai avanti comincio a fare primi scatti e vai a fare vendemmie perché ho fatto le vendemmie con le macchine fotografiche sulle spalle e fotografando e vendemmiando eccetera eccetera così poi per fortuna e questo devo dire una fortuna un editore ha visto le foto che ogni tanto pubblicano su facebook mi ha contattato ha detto scusa che vogliamo fare quindi facebook serve anche come come tutti i social network cioè e da lì è nato questo fatto prima un libro che molto particolare che infatti si presenta con la presentazione anche della loro e danno furno che la prima ballerina del teatro stabile in torino insieme al suo ecolografo e con altri che hanno fatto la prefazione siamo a chianti ballet è molto particolare come libro tra l'altro interpretato con quattro illustratori che quello che avevo visto io come in realtà si si parla di tronchi di 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 vitigni vecchi che assumono delle forme che ricordano appunto la danza esatto balletto sono per me erano ballarini e da lì poi coinvolte queste quattro illustratori di cui ci sono anche dei nomi abbastanza grandi come roberto perini quello del male eccetera eccetera e loro hanno fatto il loro lavoro per questo libro ecco questo libro fra l'altro verrà presentato domenica 9 settembre alle 11 all'interno di una mattinè perché siamo comunque dentro la mostra del vino l'expo del vino chianti classico di greve inchianti e quindi domenica 9 settembre c'è la presentazione di questo libro di cui parlavi chianti ballet con anche un rinfresco con della musica del vivo con il gruppo biacini calderai ronga ronga jazz combo all'interno di una mostra appunto dal primo al 16 settembre al museo di san francesco di greve inchianti sarà aperta questa mostra con degli orari che vanno a parte lunedì tutta la settimana il pomeriggio dal martedì a venerdì e tutto il giorno praticamente alle 10 alle 19 il sabato e la domenica e appunto ci sono tre eventi sostanzialmente la inaugurazione del primo settembre questa mattinè con presentazione del libro domenica 9 settembre e poi c'è appunto il 16 di settembre domenica sempre domenica sempre alle 11 quindi anche qui una mattinè diciamo c'è quest'anteprima di una collezione di gioielli si chiama spirali vitali allora come nasce anche questa questa idea delle spirali vitali spirali vitali nasce dal fatto sempre passeggiando in mezzo a vigneti mi sono accorta che spesso e volentieri usano delle stecche di bambù che aiutano in mezzo alle vari paletti che tu hai lì già per sorreggere la vigna che cresce spesso anche orizzontale cosa fa la vigna ha si artociglia attorno a queste canne esatto e nel turno dopo la vendemmia cosa succede queste parti diventano legnose poi morano cioè però rimangono lì intorno a questo bambù me ne sono preso all'inizio due tre poi siccome questo gioielliere si può dire che ha sempre c'è fatta anche per me anelli eccetera eccetera me ne sono ricordato ho detto ma chiediamo un attimino se non si può fare effettivamente una collezione che sarà molto particolare perché saranno tutti pezzi unici perché c'è una lavorazione artigianale molto antica che la fusione della cera quindi ogni volta che tu fondi un pezzo di legno poi questo sarà nella presentazione proprio con un libricino e lui sarà presente per spiegare come si fa è un pezzo solo crudi allora fra le immagini che ti rappresentano e che saranno credo anche in mostra dal primo al 16 settembre al museo di santo francesco di greve c'è questa immagine che tu hai scelto credo anche come tua immagine personale che diciamo ricorda un sedere tu lo chiami in un altro modo allora qualcuno ci vede un sedere qualcuno ci vede qualcos'altro però diciamo che la cintura quella potrebbe essere una cintura a me fa pensare più a un sedere sembra quasi una foto costruita da te o comunque da qualcuno ci racconti velocemente la storia di questa immagine allora innanzitutto io non costruisco né altro le foto cioè anche se sono pratica eccetera eccetera io faccio dei scatti così come sono e questa è una storia carina perché giravo su a san cresci e c'erano queste due si può dire signori di una certa età oppure anche vecchietti insomma come vi piace di più che avevano utilizzato questo nastro da regalo sicuramente recuperato da qualche regalo eccetera eccetera per legare la rete sotto a questo tronco ora questo tronco a questa forma particolare ma non è costruita è così e come me la scelta come tua immagine perché è talmente curioso e si sa allora bisogna creare curiosità e quello per me è stato la più curiosa delle immagini che ho fatto allora ricordiamo infine l'appuntamento con la personale di Trudy Schmidt ricordando anche che c'è un sito web un blog che si chiama black and wine design ed è questa mostra che si terrà a greve inchiante il museo di san francesco dal primo al 16 di settembre con orari diversi che possono essere trovati anche sul sito di radio chianti e che vede tre eventi la prima il primo evento è la l'inaugurazione di sabato primo settembre alle 11 da cui appunto inizia l'accesso a questa mostra che non è solamente fotografica come abbiamo detto domenica 9 settembre c'è questa mattina è sempre alle 11 all'interno anche della mostra del vino dell'expo del chianti classico con la presentazione del libro chianti ballet dove ci sarà anche la possibilità di ascoltare musica dal vivo e infine domenica 16 settembre alle 11 dalle 11 in poi quindi tutto il giorno anterrima della collezione ideata appunto da Trudy Schmidt spirali vitali gioielli creati dalle vigne e quindi vi aspettiamo tutti dal primo al 16 di settembre al museo di san francesco di greve buona colazione a te buon caffè